Salve a tutti da Giuseppe Ragazzino, siamo qui con una rapida demo pensata per farvi vedere come funziona Quick Remote DLG. Essenzialmente lo potete gestire dal cellulare come fosse una sorta di remotizzazione del telecomando a infrarossi che normalmente utilizzate sul vostro TV. Lanciamo l'applicazione così vi facciamo vedere appunto come si riesce a raggiungere, vi facciamo vedere come abbinare un TV e come puoi andarlo a utilizzare. Risulta ovvio che per un Hi-Fi, un set of box o un cliente di una tradizione la cosa funziona in uguale misura. In questo caso abbiamo un 55A 980B. Il telefono va quindi a leggere il tipo di televisore, il tipo di distributivo, non lo specifico, possiamo andare quindi nelle varie informazioni, andiamo ad avere il nostro telecomando sul nostro cellulare. possiamo andare quindi a trovare la selezione per la sorgente TV e possiamo quindi finalmente utilizzare il cellulare effettivamente come telecomando, ma che è capitato per esempio magari con i nonni che scambiavano il telefonino una volta di telecomando. In questo caso davvero l'integrazione è complessa, quindi nonna ci vedeva bene. Ora è davvero tutto, vi ringrazio per la selezione, ovviamente se avete dubbi o domande così tra volte siamo sempre a posto di selezione, ci si vede online, questo focus si chiude qui. Grazie per l'attenzione, seguiteci su www.mobiles.inco.it e tutti i canali social che abbiamo attivato per voi. Grazie per l'attenzione, seguiteci su www.mobiles.inco.it e tutti i canali sociali e gli importanti Ciao, ciao! 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 Grazie a tutti